Lounge bar la beuta da Giaomino ragazzi o vai vai si parte a peri beuta o va Giaomino mettici due noccioline a parecchia che è qui che tristezza forza ha pagato 5 euro io voglio fare l'aperitivo voglio mangiare come quelli vanno a fare l'aperitivo con la scusa e guardano il barrista appena si gira vinciano a mangiare perché magari pigliano il vino e loro tirano da poco come fu io no e poi mangiano pizzettine e capito e ne ho macedo poi c'è anche c'è quei barring dove c'è il barrista che ti guarda che ti guarda ti punta per vedere che tu mangi e poi dopo a seconda di che ti ha mangiato ti ti fa ti dice dammi 3 euro dammi 5 euro dammi 7 euro comunque non ci perdiamo in bischierate allora iaopino vai che classe che classe qui si alberghiere una sega qui ragazzi gli hanno gioco ieri il drink il gioco del drink la beuta ragazzi la beuta la vera beuta gli è solamente da iaopino questo è il ragazzo di bottega cercandoci uno di stafè non c'è c'è finito la pesca allora vai che ti fa dimmi che ti fa che vuoi vai veloce c'è gente vai vai negroni americano vai venivano di sbagliavo vai allora c'è voi c'è vuoi l'arancio che c'è c'è vuoi l'arancio c'è vuoi ma lupa vedi il mio barrista differente il bancone il bancone alta pulizia vai un soldi di vio da fare a me mi calma la camicia la camiciola ragazzi io questa qui amazon la troverò se qualcuno sa mi sa trovare questa camicia me lo dì me lo dì me lo dì perché io lo voglio sapere e la voglio le fa tutte le serate e stestate con questa camiciola bellissima e con la stampa dietro toscana ma lei ma vai alla la beuta vai si fanno si fanno queste stai vai corpo di classe corpettino contraccorpo che lui è anche un dentista si chiesa leva venti con il contraccorpo gli ha fatto il dentistico ma poi dopo gli aperti i barri perché su babbo gli ha lasciato l'attività e via vai ecco invece questo gli è il vecchio gestore che era un luglio era meglio perché aveva il guantino il guantino per l'elevato vidi e comunque per le sto vidi e guantino vedi ta 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 velocità manualità banana ba chi ci vuoi fettina d'arancia o banana nei negroni ce la vuole una banana dentro i negroni nuova moda vai si lancia da ora poi nei negroni da ora poi e nell'americano invece la fettina d'arancia gli vuole l'arancia insomma ci vuole la banana fettina di banana e via il baffino che ormai è di tendenza queste state l'estate 2020 sarà l'estate di baffo e via e questa la sceps la deve fare i gin tonic che ce lo vuoi il cetronino dentro ma tu lo dici te? tu lo dici te? tu lo dici te? tu lo sai? che ci mette? che è questa cosa? il famoso zucchero di serradio vai 1 0 2 1 0 6 1 0 6 scarso vai forza e via e rizzati la beuta con il ripiglio finale direttamente dopo tutto in gabinetto vai buona ugo ciao 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 ciao